la ripresa della trattativa. Milano prosegue il piano di ristrutturazione del Policlinico, è iniziata la demolizione di quattro vecchi padiglioni che occupano un terzo della superficie. Sguardi stupiti, alcuni un po' intimoriti, tra i pedoni di passaggio davanti alla Clinica Mangiagalli a Milano. Nell'aria una nuvola umida, un rumore assordante, dietro il muro il grande scavatore e lo spruzzo d'acqua sulla pinza meccanica. È l'inizio della demolizione di altri quattro padiglioni storici del Policlinico per la realizzazione del nuovo ospedale. Il Ponti, Beretta Est, il Moneta e il Beretta Ovest. Siamo all'incirca sui 120.000 metri cubi vuoto per pieno con un 20.000-25.000 tonnellate di macerie prodotte. Le quattro strutture non sono considerate di pregio, come il Litta, il Sacco, il Granelli, su cui vigila la soprintendenza, ma c'è chi ne ha già nostalgia. È chiaro che un po' di tristezza c'è, però queste vecchie strutture non erano più in grado di mantenere la sanità a livello tecnologico che abbiamo ora. Quali attività si svolgevano? Tantissime attività, soprattutto neurologia, neurochirurgia, oculistica, otorinolaringoiatria, chirurgie. Erano le grandi chirurgie di Milano, per anni sono stati questo. In quest'area, grande quanto un terzo della superficie totale, sorgerà un grande monoblocco. Prima però la complessa demolizione termina i lavori giugno 2013. Siamo in un contesto urbano dove c'è un ospedale ancora in funzione, quindi dobbiamo tenere sotto controllo i tre fattori principali, le polveri, il rumore e le vibrazioni. Il policlinico intanto continuerà la sua attività.